c'è anche una, guardate con la sceglie caroteca c'è un po' la cazzoca la cazzoca delle regioni dicono ci sono tre i soldi che poi dite, nell'unico che dice, è vero, però si viva un conto nazionale anche le regioni che non so allora abbiamo detto, scusat, allora lasciamo la moda, però manu, ma lo so dire, sono i ragazzi, ci sono i soldi, lo so dire, lo so dire, lo so capito però per dire, quindi potrà essere un'ottima, si chiama i sicuri c'è adesso il mauro roma anticipo, ho detto alla carrozza si siano lavorati capito? la città non si guardi a un giugno la città buongiorno non è vero che non si può risolvere perchè poi ne troveranno le piccole si si no eh, andiamo a dire ah... se si muove il tuo talento supermanente tra i giochi sono quasi condatti poi i requisiti sono un problema di diseguitare allora un passo di lavorare non è una roba che no no poi il finanziamento che veniva fuori non era allora iniziamo dunque siamo qui oggi con il salario democratico a Guglielmo e Fani che grazie molto per aver accettato il nostro invito al campeggio degli studenti della rete di l'antimedia dell'unione degli universitari questo discorso questo dibattito si inserisce chiaramente all'interno di tutte quante le iniziative che stiamo facendo nell'ambito della discussione con il mondo politico e con la società come facciamo tutti quanti gli anni per aprire anche le nostre discussioni quelle che poi sono l'interfaccia politica con la quale ci relazioniamo e che poi è chiamata anche a governare il cambiamento e il paese ci siamo organizzati in modo da dare un po' un panorama di quelle che sono state le nostre discussioni quindi aprire anche questo confronto iniziarlo poi sarà portato avanti anche durante tutto quanto l'anno quindi ringraziando ancora per la partecipazione Guilherme Pifani passo la parola a Andrea buonasera a tutti e allora noi in questi giorni stiamo stiamo discutendo di di quella che è la nostra condizione dentro le scuole di quella che è la scuola oggi chi ha un po' di anni di più sa ha vissuto la scuola pre e post 2008 tantissimi di noi invece hanno sono entrati dentro la scuola dopo il 2008 quindi a taglia hanno conosciuto solo quel modello di scuola lì ci stiamo rendendo conto che la scuola che viviamo noi oggi non è una scuola che funziona l'istrumento degli studenti non è una scuola che può rendere cittadino del tutto perché? perché probabilmente non c'è stata alcuna luce sulla scuola e non c'è stata alcuna logica su cosa è la scuola e il ragionamento su cosa è la scuola oggi e su cosa serve la scuola oggi in un mondo che è in costante cambiamento in costante cambiamento e questa scuola oggi merita e deve essere riragionata la scuola della crisi è una scuola in cui non tutti riescono a ottenere strumenti non riescono a finire con i loro percorsi giusto per buttare un po' di dati ci sono tassi di abbandono scolastico che ormai raggiungono anche più del 30% o scusa sfiorano il 30% quasi uno su tre quasi uno studente su tre decide di interrompere il proprio percorso di studi le cause sono tante dalla qualità che offre quel tipo di formazione di istruzione al costo alle esigenze delle famiglie in crisi è assurdo pensare che non ci sia una logica di una logica per diminuire questi dati il dato di fatto è che si vuole rispondere a un mondo che richiede sempre più formazione con meno formazione è un mondo che richiede sempre più formazione per essere cittadini che possono inserirsi in un mercato del lavoro con la possibilità di avere diritti di rivendicare diritti e quant'altro nasce infatti la proposta di di sacconi di abbassare i 14 anni il livello dell'opio proposta che a noi chiaramente sembra allucinante e paurosa e che segue quella logica lì paurosa un mondo che richiede formazione continua non può avere quella risposta a tutti deve essere data la possibilità di completare il proprio percorso di studi bisogna ripartire da una tematica che è fondamentale e centrale che è quella del diritto allo studio oggi noi abbiamo incrociato dei nostri dati che vengono da un'indagine ma incrociati appunto con dei dati della FederConsumatori le scuole andare a scuola oggi costa più o meno dai 900 ai 1500 euro a studente all'anno immaginiamoci un figlio di cassa integrato come può pensare di completare il suo percorso di studi come fa a completare il proprio percorso di studi come fa magari a inserirsi nell'università a poter completare il suo percorso di studi universitario stiamo riragionando tante tematiche in questi giorni perché noi crediamo che la tematica della scuola del diritto al futuro del diritto ad essere cittadini oggi quindi tutte le tematiche che legano anche al diritto allo studio siano tematiche per sviluppo e il cambiamento del paese appunto per questo abbiamo deciso oggi di iniziare in mobilitazione l'11 ottobre appunto perché quelle tematiche vanno ad essere centrali appunto per questo rimenticheremo che la scuola sia per tutti sia possibile completare il percorso di studi e a tutti vengano date le stesse garanzie gli stessi diritti perché quelle sono condizioni per poter affrontare poi un percorso di vita con tanto dentro quel mondo di diritti non c'è tutela non c'è diritto se non si parte dalla scuola la possibilità di istruirsi la possibilità di studiare per tutti appunto per questo stasera volevamo chiedere a Guglielmo Pinfani cosa pensa il partito e cosa pensa lui da segretario del partito democratico grazie 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 a te grazie a voi buonasera a tutte e tutti il tema della formazione dell'istruzione e più generale della ricerca dell'innovazione dell'università è da sempre diciamo uno dei valori identitari della proposta politica del partito democratico e in generale forze dei centrosinistri delle forze progressiste in Italia c'è una cosa strana che mentre nel resto d'Europa e del mondo un tema come questo è sostanzialmente appannaggio di tutti i sistemi paese da noi avviene invece che solo una parte della rappresentanza politica fa di questi temi un terreno forte della propria iniziativa e questo in qualche modo è un limite non è un punto di forza perché denota anche della fragilità culturale e della retratezza del sistema politico italiano perché cosa volete è giusto che tra destra e sinistra si abbiano idee diverse ad esempio di alcuni temi sulla centralità della scuola sui percorsi formativi ma è stranissimo trovare che una parte spinge molto e l'altra parte invece sostanzialmente frena quando Sacconi propone di ridurre l'obbligo a 14 anni che idea di paese di idea di società c'è dietro che abbiamo bisogno di persone da mandare al lavoro senza qualificazione senza formazione ma non è esattamente il cuore del problema che ha il nostro paese e non dovrebbe imboccare esattamente la strada opposta come ci dicono tutti i modelli più avanzati in Europa per cui oggi competi in queste condizioni difficili della globalizzazione se hai anche una capacità di far crescere un percorso formativo e dall'altra parte hai anche imprese che fanno di questo una scelta del proprio ciclo di investimenti sia in qualità che in quantità quindi per noi questo è il tema il tema forte lo è anche in questa congiuntura di governo un po' strana che stiamo vivendo nel senso che abbiamo già detto e continueremo a chiedere che nella manovra di finanza pubblica dell'autunno la scuola e gli investimenti in scolastici abbiano una diversa risposta rispetto a una politica di tagli per essere chiari noi proporremo che almeno 500 milioni di Euro vengano aggiunti alle dimensioni della spesa già previste fino a oggi appunto per segnalare che per noi anche in un momento di crisi anzi soprattutto in un momento di crisi bisogna investire più in formazione e in istruzione d'altra parte tutti i segnali ce lo dicono se noi scomponiamo la spesa pubblica ad esempio in istruzione per il numero di persone e fai un reddito pro capita rispetto a questo noi siamo poco e siamo terz'ultimo per tutti in Europa cosa vuoi tagliare più dove vuoi arrivare noi abbiamo bisogno esattamente il contrario di spendere di più e di spendere meglio perché anche spendere di più non è la risposta giusta noi potremmo spendere di più male e in un periodo di risorse è una cosa che non è giusto che ci permettiamo noi dobbiamo spendere di più e spendere bene nel senso di fare le cose per bene e di investire esattamente là dove sono i nomi della nostra situazione scolastica e questa è una battaglia fondamentale perché noi per un po' di decenni ci siamo cullati nell'idea che avevamo sì qualche problema in alto ma la scuola primaria la scuola secondaria erano punti di eccellenza avevamo qua e là qualche problema nel ciclo universitario ed eravamo deboli nel ciclo post laurea questo era lo schema sul quale per qualche decennio abbiamo costruito un'identità nel nostro sistema formativo oggi in realtà è peggio perché quelli che sembravano dei punti di eccellenza lo sono meno lì dove pensavamo di avere dei buchi questi buchi si sono allargati e quindi abbiamo un problema generale di rimettere in sesto un sistema molto più forte molto più organizzato molto più logico rispetto a quello che abbiamo che abbiamo quindi questa è la nostra scelta unitamente ad altre questioni abbiamo un grande problema tu dicevi della dispersione scolastica abbiamo il problema del diritto allo studio una delle questioni di cui proprio mi sto occupando in questi minuti è questa questione che avete discusso ieri con il Ministro Carrozza sulle borse di studio che è un problema assolutamente fondamentale se vuoi garantire ai più che non ce la fanno di poter avere un accesso visto i costi poi non ne parliamo del sistema di istruzione universitario costi che tendono ovviamente a crescere e questo rappresenta in un paese che diventa mediamente più povero un'impellenza ancora più forte perché siccome questa crisi non fa solo arretrare il paese ma divide anche le persone le famiglie le comunità per cui la disuguaglianza tende a crescere cioè noi viviamo una crisi in cui qualcuno si arricchisce molto anche nella crisi ma qualcuno perde tutto in ragione della crisi è evidente che se tu vuoi ristabilire e ampliare la fruibilità di un diritto allo studio tu hai bisogno di avere più soldi proprio perché sei in un momento di crisi rispetto a quando mediamente le condizioni di reddito erano mediamente meno precarie di quello che viviamo oggi e quindi da questo punto di vista è chiaro che questo è il campo questo eccetera poi naturalmente dobbiamo fare i conti con la situazione della finanza pubblica che è terribile che è pesante non abbiamo un euro abbiamo buttato tanti soldi nei beni pensati che oggi se uno ci pensa si credita di una mano perché in realtà ne abbiamo davvero buttati tanti oggi che ne avremmo bisogno non li abbiamo però lo stesso non possiamo far finta che siccome non hai margini non puoi far nulla vuol dire che devi essere in grado di selezionare dove tagli la spesa e dove invece la spesa la fa crescere in fondo quello che si richiede al governo una forza politica responsabile non di fare il conto con la realtà quella che è ma provare in una realtà che ti data argine con una scelta politica in cui tu assumi quello che devi tagliare di più dove devi andare a tagliare a colpire i brecchi dove ci sono veramente dove devi investire di più cioè ci chiede più politica non meno politica più responsabilità non meno responsabilità naturalmente tutto questo è molto più difficile ma è anche più necessario questa è la sfida che c'è c'è con un governo un po' bislacco come quello in cui stiamo ci sarebbe stato lo stesso in un governo fatto unicamente dal centro-sinistra perché i problemi delle difficoltà economiche le avremmo fatte tutte e il problema della scelta di dover tagliare più sarebbe stato altrettanto necessario da fare in generale quello che vale per la propensione vale anche per il welfare in un periodo di crisi ma devi investire è l'unico settore in cui tu puoi ampliare un principio di uguaglianza della cittadinanza è l'unico settore nel quale tu puoi quella parte del paese che sta arretrando ed è l'unico settore che ti mette in condizione di aspettare che passi il ciclo della crisi e poter ripartire però tra anni difeso e valorizzato uno dei fondamentali asset per la ripresa produttiva ed economica del paese questa è la scelta di fondo questa è per noi proprio quello che bisogna fare naturalmente non è detto che lo sia così per il complesso dello schieramento politico ma per quello che ci riguarda questo deve essere la nostra questione quindi da questo punto di vista io voglio rassicurare tutti gli studenti che sono qui questa sera che questa resterà ed è la nostra scelta perché è una scelta in cui crediamo e perché appartiene per tante ragioni al DNA della nostra identità del nostro progetto e del nostro programma come dire rassicurazioni che ci fanno sperare anche con impegni di spesa importanti speriamo dirli nel prossimo autunno confermati anche dal coro politico intero Francesco buonasera segretario e compagno alle scorse elezioni il partito democratico si è presentato diciamo con la volontà di cambiare il paese si è presentato con la volontà di instaurare il cosiddetto governo del cambiamento una domanda molto rapida è come pensa il partito democratico di fare questo alleandosi con chi ha contribuito in questi vent'anni a rovinare il paese il programma con cui il programma con cui si è presentato il partito democratico a febbraio è un programma che è ancora valido e soprattutto se è un programma che è ancora valido come mai gli interventi in questi primi sono degli programmi come per esempio quelli inerenti e quelli all'interno del decreto del fare per esempio sulle borse di mobilità che sono delle borse previste per una platea molto ristretta di studenti e che presentano dei requisiti molto duri per l'accesso noi siamo d'accordo con quello che dice il ministro cioè su riconoscere il merito va bene riconoscere il merito va bene valorizzare il merito ma a una condizione ovvero che tutti partiamo dalle stesse condizioni di partenza e questo non è ancora garantito il secondo punto è quello sul diritto allo studio oggi in questi giorni assistiamo a un governo che parla di abolizione dell'Imu che dibatte sull'Iva ma come mai non vengono fatti degli investimenti e degli interventi reali a favore del diritto allo studio interventi che anche il partito democratico ha tanto decantato in campagna elettorale l'ha presa come una sua posizione forte come mai questi interventi non vengono fatti come mai gli interventi che vengono fatti sono quelli di spostare dei fondi di fare dei finanziamenti da un fondo come quello dell'università a un altro come quello in favore delle borse di studio quando siamo e lo sa benissimo un paese che ha l'unico paese d'Europa che ha la categoria dei doni non beneficiari quindi di studenti che per merito possono accedere alle borse ma non vi accedono perché non ci sono i finanziamenti e insomma la domanda finale che voglio farle il partito democratico sarà responsabile dei provvedimenti dell'istruzione dell'università e della ricerca in questo mandato sì o no sì grazie tre domande in una la prima la più difficile ovviamente avevate proposto il governo nel cambiamento perché non lo avete fatto in realtà anche una risposta molto semplice per quanto non è la risposta che ci sarebbe piaciuta che non abbiamo vinto le elezioni avuto la maggioranza alla Camera non abbiamo avuto una maggioranza al Senato possiamo anche far finta di nulla ma questo è il risultato del voto non sto dicendo abbiamo responsabilità in cose che quali che siano e ci sono le nostre responsabilità per non aver vinto le elezioni il risultato però finale che avevamo era quello che non ci consentiva di fare il governo del cambiamento a quel punto io con voi parlo chiaro cioè inutile tra di noi cioè ci conosciamo che ci prendiamo reciprocamente in giro mi parebbe una sciocchezza in realtà a quel punto noi avevamo due strade possibili non 20.000 o tornare al voto o provare a fare un governo se fossimo nati al voto dopo il risultato elettorale noi avremmo avuto questa situazione degli a due mesi fermo restando che la crisi si sarebbe aggravata fuggita di mano avremmo avuto Berlusconi in maggioranza alla Camera e un Senato assolutamente ingovernabile come abbiamo oggi che cosa avremmo fatto a quel punto che cosa avremmo fatto a quel punto una terza elezione avremmo subito ancora di più il centrodestra ci restava l'altra strada abbiamo provato come sapete un governo di minoranza abbiamo cercato con Movimento 5 Stelle di trovare qualche forma di interlocuzione la cosa non è stata resa possibile inutile girarci attorno questa questione è evidente così è andato abbiamo dato vita a questo governo di scopo di servizio nel paese lo dicevo già prima non era esattamente quello che volevamo un governo complicatissimo un governo difficilissimo d'altra parte stiamo vivendo anche purtroppo una delle crisi più drammatiche in cui nella nostra storia ma non solo la storia della Repubblica io ho provato a fare un po' di valutazioni comparative noi nella storia dei 153 anni d'Italia non abbiamo mai avuto una crisi così lunga quindi questa è la verità ci stiamo battendo perché questo governo di servizio faccia le cose utili al paese è chiaro che non è la nostra prospettiva risolutiva questo governo l'abbiamo detto in tutti i modi quando e se riusciremo come bisogna fare cambiare la legge elettorale sistemare un po' di questioni aggredita un po' il nodo più duro della crisi quando si tornerà a votare è chiaro che riproporremo la nostro progetto la nostra alleanza per un governo di cambiamento sperando che una parte della parte più acuta della crisi di averla alle spalle e di poter avere qualche strumento in più per costruire il cambiamento guardate sempre per onestà tra di noi se fossimo andati al governo da soli noi non avremmo evitato problemi e politiche di rigore molto difficili perché rispetto alla nostra campagna elettorale quello che è cambiato in parte pensavamo che è stato comitore dell'anno precedente e ci siamo trovati invece un anno che ancora adesso è un anno che va oltre le aspettative che si immaginavano per cui il problema vero che ha il governo ma lo avremmo avuto anche da soli governando nel nostro schieramento e di avere una situazione economica in cui il debito aumentava le risorse non c'erano il governo Monti Monti si arrabbia quando dico me la verità ha lasciato non finanziati alcuni progetti alcune urgenze penso al terremoto dell'Aquila solo per dirne una che ci è costato giustamente una priorità di quasi un miliardo perché non puoi lasciare l'Aquila in quelle condizioni che gridano vendetta e tutto questo sta determinando seri problemi di finanza quando tu mi dici si si parla di IVA di IMU io potrei risponderti si parla perché mica ancora si sono trovate le risorse appunto perché la situazione è difficile e in più aggiungo che evitare l'aumento dell'IVA non è una roba che riguarda la destra perché l'aumento di tutto l'IVA colpisce soprattutto tutti i ceti più debole i giovani i precari gli anziani soli i disoccupati chi colpisce l'aumento dell'IVA diverso l'IVA ma l'IVA è un tema davvero tutti i ceti popolari di questo paese in modo particolare i giovani disoccupati quindi quella è una battaglia che se si può fare è anche una battaglia un segno di equità perché un conto è esentare dalla prima casa le fasce popolari e un conto è evitare che paghino chi invece ha reddito la possibilità di pagarla su questo hai assolutamente ragione ma come vedi anche mettendola così la questione non è risolta perché bisogna uno ha esattamente le risorse per far fronte a queste questioni e aggiungo anche di poter avere un po' di investimenti per lo stimolo sviluppo guardate che il nostro problema che abbiamo è che se non facciamo un po' di manovra come si diceva anticichica non facciamo ripartire la domanda noi corriamo il rischio di protrarre ancora troppo a lungo l'andamento della crisi quindi il nostro problema non è lavorare tanto sull'offerta anche la cosa fatta da Letta giustamente intelligentemente ridurre il costo contributivo fiscale dei giovani non funziona se però non riparte l'economia perché come lo vediamo tu puoi anche far costare il lavoro dei giovani zero ma se non ci sono imprese non ci sono aziende non ci sono settori che lavorano è chiaro che costa meno ma nessuno ti assume quindi quella roba funziona quando hai un ciclo produttivo che ricomincia a salire e ricomincia a funzionare e quindi da questo punto di vista bisogna assolutamente fare questa operazione di stimolo all'economia cosa che doveva fare l'Unione Europea che in realtà fino a oggi poi se sempre la dobbiamo dire tutta in verità noi stiamo combattendo contro una politica sbagliata dell'Europa noi 80% dei nostri problemi ci vengono da questa politica europea noi non siamo mica padroni di decidere quello che vogliamo non so se è chiaro non lo eravamo prima con l'infrazione non lo siamo neanche adesso non possiamo stampare moneta non possiamo fare investimenti oltre il 3% non possiamo investire anche nei settori che poi ci farebbero crescere e abbassare il debito queste cose le devi vincere in Europa non ce la fai da solo e questo è il vincolo che ci sta quando Letta giustamente è andato da Atene ieri ha detto una cosa coraggiosa e giusta quanti errori abbiamo fatto sulla Grecia la Grecia è l'esempio noi potevamo salvare la Grecia con 150 miliardi se l'avessimo fatto subito ci è costata 500 miliardi non si è risanata abbiamo milioni di greci alla fame bambini che non sanno come curarsi famiglie disperate è un intero paese che sta crollando è questa Europa che va modificata e va cambiata quindi la battaglia quando anche il governo di cambiamento ti potrà aggiungere il governo di cambiamento sì ma è un'Europa che cambia perché anche un governo di cambiamento con un'Europa che non ti vuole ascoltare e continua a fare politiche di rigore fa fatica a sgombrare le cose dalle questioni che noi abbiamo e d'altra parte questo è il culo di sacco in cui siamo poi se abbiamo tempo ne possiamo anche ragionare del perché siamo arrivati a questo punto ma certo è che abbiamo il 130% del debito questo debito qualcuno se lo deve comprare per quanto sia fortemente italiano adesso i proprietari di questi debiti comunque è un debito che devi pagare e non ce la fai a pagarlo se non ricresce il paese il paese non ricresce se non fai investimenti e se non fai investimenti pubblici la crescita è ancora più tardi non puoi fare gli investimenti pubblici perché non c'è margini e se aumenti le tasse il paese crolla e se tagli le spese a partire da quelle della scuola e della sanità crolla lo stesso il paese questo è il cerchio perfetto in cui noi siamo possiamo dire siamo sfortunati a stare in questo periodo però quando prima dicevo guardate che in 150 anni di storia cioè in 8 o 9 generazioni nessuna ha avuto un periodo così duro mi permetto di dire che c'è chi in questa storia è ancora più sfigato degli altri esattamente la generazione dei giovani che sta crescendo e si affaccia al lavoro in questa situazione e da 8 o 9 anni non vede la possibilità di avere un'idea positiva per sé sul futuro e noi stiamo determinando le condizioni di una generazione come è stata detta senza lavoro questo è il cuore del problema che abbiamo di fronte a noi e sulle quali cerchiamo e dobbiamo lavorare per cambiare perché voi capite che un paese che non ha fiducia nel futuro non ha idea buona positiva sul futuro è un paese che va giotto non è che finiamo e quindi dobbiamo evitare di finire sotto e fare tutte le politiche giuste che vanno nella direzione per quanto riguarda le politiche della scuola e dell'istruzione abbiamo il ministro e non a caso abbiamo scelto di avere dentro il governo esattamente il ministro che si occupa di questi problemi lo avete ascoltato ieri noi lo talloneremo ovviamente nel lavoro parlamentare perché dobbiamo poter contare su soluzioni che vanno in avanti ma è una delle scelte che abbiamo fatto abbiamo puntato su questo settore l'abbiamo puntato anche all'interno del governo cerchiamo di far bene anche perché qui se tu le cose le fai bene anche questa scommessa la puoi vincere se tu le cose le fai male questa scommessa la perdi e se perdi questa scommessa si allontana anche il governo nel cambiamento di cui invece dobbiamo continuare ad essere alfieri perché arriva un punto in cui questa partita dobbiamo riprendere e giocarla penso anche quella che era la discussione sull'Imu in particolare come si diceva anche lì è una questione un po' diversa però quantomeno per come si diceva anche capiamo perché siamo arrivati a il vero problema è che negli anni scorsi noi abbiamo visto anche con i successi dei governi la priorità proprio di spesa dell'istruzione totalmente assente mentre si discuteva di questioni anche andando un pochino indietro mi ricordo anche il salvataggio dell'Italia le quote late abbiamo parlato più volte il problema vero è che mai c'è stata un'attenzione sulle politiche di istruzione di diritto allo studio nonostante poi a volte addirittura paradossalmente siano non voglio banalizzare ma anche una spesa leggermente inferiore ad altri interventi quindi a maggior ragione su questo servirà anche un impegno straordinario penso nel prossimo autunno Margherita buonasera e la ringrazio di essere qui la mia domanda verte su due temi che lei ha già in parte affrontato ma sui quali le chiederei di andare più nello specifico il primo è il tema della disoccupazione giovanile che in questo paese raggiunge il terribile picco del 38% e che si pone come una vera e propria questione generazionale rispetto a tale questione per l'appunto sono state avanzate svariate proposte idee di soluzione ed è rimbalzata tra tutte la parola di flessibilità nella flessibilità ci chiediamo che cosa sia la flessibilità dato che troppo spesso sta diventando sinonimo in realtà di un arretramento dei diritti e di una competizione a ribasso con i paesi emergenti soprattutto per quanto riguarda la formazione come abbiamo detto prima appunto la dispersione scolastica in questo paese raggiunge livelli non civili e lo stesso di casi per il numero di laureati giusto ieri abbiamo avuto un confronto con il presidente di Alma Laurea Camelli che ci ha informato che insomma il numero di laureati supera stento il 30% e da questo punto di vista si pone come uno dei più bassi in Europa e proprio sul confronto con l'Europa avrete la seconda parte della mia domanda nel senso che ci piace immaginare un'Unione Europea come un'organizzazione nella quale i vari paesi si confrontano appunto su temi positivi tra i quali il numero di laureati la qualità della democrazia la qualità del diritto allo studio questo non è tanto è vero che soprattutto negli ultimi anni a causa dell'aggravarsi della crisi l'Europa è diventata sinonimo delle politiche di austerity che hanno creato depressione e un certo euroscetticismo che sta sfociando purtroppo i movimenti anche violenti appunto euroscettici ecco rispetto a tale quadro io mi domando e ci domandiamo che cosa può fare questo governo e anche come si pone il suo partito specialmente in relazione alle elezioni europee che ci saranno l'anno prossimo grazie allora Margherita la prima domanda la questione giovanile oggi io volevo solo farvi un richiamo perché quando dicevo che stiamo passando la crisi più profonda poi bisogna anche provare a farne una comparazione con altri momenti io appena lasciato la CGL prima poi di essere eletto in Parlamento nei due anni in cui ho lavorato l'istituto ho ottenuto molta occasione di parlare i giovani delle scuole superiori di Roma e ho fatto tanti incontri nei licei negli istituti tecnici e mi ricordo che mi facevano tutti la domanda ma ci può dare qualche consiglio come fare per trovare un lavoro che corso di laurea indicare eccetera io rispondevo quasi sempre a un modo che era un po' preso dalla mia storia personale però la dice lunga sulle differenze tra un tempo e oggi io mi sono diplomato nel 69 e laureato nel 73 quindi appartengo a quella generazione che ha fatto il 68 o il 69 negli ultimi anni del liceo e impegnata come tutti quelli della mia generazione nelle lotte studentesche nell'azione sociale e così via cosa successe? a quelli della classe mia del liceo successe che presero tutti l'università e nel giro di un anno sto parlando quindi del 73 75 tutti quelli che finirono l'università trovarono un lavoro dove lo trovarono? su 24 25 ragazzi e ragazze 6 lo trovarono nell'insegnamento liceo classico chi prese i corsi di studio classici trovò il lavoro dopo un anno quasi tutti un po' di supplenze ma alla fine quindi 6 a insegnare 6 preso la carriera avvocatizia fatto il tirocinio cominciarono tutti a lavorare 6 finirono come dice la canzone di venditti in banca altri 6 diventarono medici della mia classe di liceo questi furono gli sbocchi lavorativi e quasi tutti ripeto nel giro di un anno al massimo finito il rispettivo corso di laurea trovarono lavoro perché voglio fare e uso questo riferimento perché lo voglio traslare la condizione di oggi ammettiamo un attimo la stessa classe di liceo sempre 24 25 ragazzi e ragazze che facessero oggi la stessa scelta allora chi vuole insegnare fa i suoi corsi di studi universitari lettere filosofia matematica scienze quello che è e non troverebbero posto perché nell'insegnamento come sapete tutto fermo tutto precario prima di trovare una stabilizzazione passano 10 anni e quindi quella strada precariato la strada dell'avvocatura a Roma abbiamo più avvocati di tutta la Francia un giovane che oggi vuol fare l'attività che facevano i miei colleghi o hanno un grande studio di famiglia o fanno gavetta per anni e oggi la condizione dell'avvocato è molto in difficoltà per la crisi medici fino a poco tempo fa avevamo un numero di medici enorme ma se poi vuoi fare il medico oggi devi studiare circa 6 più 6 12 14 anni ormai è questo il corso tra i 6 anni di laurea i 6 di specializzazione e qualcos'altro da aggiungersi quindi quando trovi lavoro oltre 40 anni in banca non ne parliamo allora assumevano adesso li mandano via come vedete mandano via quadri impiegati quindi la mia classe di allora se fosse trasferita al tempo di oggi quelle stesse scelte produrrebbero non lavoro attesa lunga precariato eccetera questa è la differenza tra i due mondi una differenza enorme allora quei giovani di allora vedevano il futuro come un futuro in cui potevano realizzarsi e cambiare i giovani di oggi vedono un futuro in cui non stanno conoscendo in condizione questa è la stratosferica differenza tra un paese che ancora stava crescendo molto e un paese che sta declinando da anni e anni questa è la questione che sta di fronte a noi questo è il nostro dramma questo è il punto di fondo e guardate che per risolvere questo problema non ce la caviamo solo con uno strumento perché dicevo non basta far costare di meno il lavoro dei giovani perché se il lavoro non c'è lo puoi anche far costare zero non c'è quindi o ripartono gli investimenti o riparte un modello di sviluppo che faccia i conti con quello che è il nostro paese con i suoi punti di forza se le nostre imprese ricominciano a investire e non invece a vendere i migliori prezzi a vivere di reddita perché io quando ho visto questo acquisto di questa grande azienda per 2 miliardi di loro piano anzi piemontese di 2 miliardi di Euro ho detto ma cosa ci fanno con 2 miliardi di Euro quando avevano tra le mani un gioiello di azienda che poteva reggere e continuare ancora ad affrontare la sfida della globalizzazione quindi o cambiamo questo pure sarà dura immaginare un futuro di questo tipo naturalmente perché dico questo e rispondo anche alla seconda domanda sull'Europa molti dicono ma in fondo questa è colpa dell'Euro c'è la propaganda di destra di sinistra in fondo se noi uscissimo dall'Euro potremmo a parte il fatto che uscire dall'Euro oggi ci creerebbe una condizione devastante dal punto di vista finanziaria e del costo del nostro debito il punto vero non è che è colpa dell'Euro il punto vero è che è colpa nostra e poi dell'Europa perché quando siamo entrati nell'Euro nel 2001 noi come sistema paese non abbiamo fatto quello che dovevamo fare noi siamo rimasti per tanti aspetti il paese che eravamo con la moneta più debole al mondo la lira era tra le monete più deboli al mondo fragile che si svalutava ogni due anni questa era la nostra moneta quando abbiamo avuto la moneta più forte al mondo perché l'Euro è la moneta più forte al mondo noi non abbiamo cambiato comportamento come sistema paese abbiamo continuato a fare poi spiego meglio le cose che facevamo quando avevamo quella moneta debole che poteva svalutarsi e in modo particolare tre cose non abbiamo fatto e dovevamo fare a partire dal 2001 ed è una delle ragioni di questo nostro declino così accelerato la prima cosa quando tu hai una moneta debole passi a una moneta forte il tuo ciclo degli investimenti parlo per le imprese non può essere quello di prima perché prima quando tu non vendevi svalutavi la tua moneta e recuperavi i margini di competizione attraverso la svalutata non vendevi le macchine svalutavi del 20% la macchina costava il 20% in meno e la vendevi all'estero con la moneta forte questo non funziona quindi o investi in qualità in modo che la tua macchina valga nella qualità nel rapporto con le macchine tedesche francesi giapponesi americane oppure tu la sfida produttiva la perdi le nostre imprese che hanno cambiato quantità e qualità degli investimenti sul modello tedesco oggi vanno benissimo perché abbiamo un terzo della nostra impresa che per fortuna non risente della crisi i due terzi delle nostre imprese che hanno continuato a fare come prima cicli di investimento ogni 20 anni sono le imprese che stanno morendo secondo se tu passi da una moneta debola a una moneta forte non è che la politica fiscale puoi tenere quella di prima una moneta forte non ti consente evasione e illusione per niente una moneta forte mica ti consente di continuare ad aumentare le tasse sul lavoro e sull'investimento delle imprese devi tassare di più le cose i patrimoni coloro dove stanno i soldi tutto il contrario di quello che abbiamo fatto noi abbiamo continuato a fare politica fiscale come prima abbiamo tartassato il lavoro abbiamo tartassato l'impresa abbiamo tartassato gli investimenti con l'IRAP abbiamo tartassato l'occupazione non abbiamo toccato i patrimoni e questo è il risultato terzo quando hai un debito così e una moneta forte c'è una cosa che non devi assolutamente fare non devi aumentare la spesa pubblica corrente e devi aumentare la spesa pubblica per investimenti noi negli ultimi 13 anni qui grazie alla politica del centro-destra perché è l'unica destra al mondo che ha fatto queste politiche abbiamo aumentato di 4 punti la spesa pubblica corrente abbiamo tagliato di 4 punti la spesa pubblica per investimenti è esattamente il contrario di quello che dovevi fare perché la spesa pubblica corrente ti alimenta un po' i redditi ma poi finisce la spesa pubblica di investimenti scuola sanità le infrastrutture le cose di cui state parlando è quello che ti segna la qualità del futuro quindi qui non è che te la puoi prendere con l'Europa te la devi prendere con te perché sei entrato nella moneta più forte al mondo e non hai cambiato non sei cambiato sei rimasto lo stesso questo è il nostro guaio di sistema paesco poi si aggiunta un'Europa che nel pieno della crisi invece fare politiche espansive fa politiche restrittive questo diciamo è quello che fa traboccare ancora di più la goccia dal vaso ma il risultato è che abbiamo una responsabilità noi per questo quelli che se la prendono sempre con l'Euro e con gli altri sbagliano perché non te la puoi prendere con l'Euro l'Euro è una scelta forte una scelta che consentiva di avere una moneta forte di avere diciamo in qualche modo un interesse sul debito più basso ma una moneta forte la devi meritare ci devi poter stare con la schiena dritta se no vai a fondo ed esattamente quello che è avvenuto guardate vale per noi ma esattamente la stessa lezione della Grecia esattamente la stessa lezione del Portogallo esattamente la stessa lezione della Spagna esattamente motivo per cui i paesi con reddito basso dell'Est si guardano bene di entrare oggi nell'Euro perché questa esperienza nostra dimostra che non basta aderire all'Euro per farcela per stare nell'Euro devi avere delle condizioni che o ce l'hai oppure se non ce le hai corri il rischio di andare a fondo e questa è la trappola in cui non abbiamo fatto le scelte giuste quando dovevamo farle con la crisi pur non avendone responsabilità nella crisi perché non l'abbiamo alimentata noi le nostre banche all'inizio tutto sommato erano molto più forti delle banche americane o inglesi ma avendo quel debito non avevamo margine di manovra il centro-destra ci ha messo non solo la sottovalutazione della crisi vi ricordate il primo inverno Berlusconi la crisi è finita secondo inverno Berlusconi vedo tutto pieno i ristoranti i bar i viaggi di quale crisi state parlando ma il fatto che non era solo un'idea una predicazione di un'esistenza della crisi e che tu mandavi al paese il messaggio che tanto la crisi non era grave e quindi alla fine ce la potevi fare senza cambiare invece una crisi così ce la fai se cambi questo è il messaggio che bisogna tenere abbiamo parlato di scuola di università di lavoro giovanile in un certo senso di precarietà abbiamo discusso anche di Europa noi in questi anni abbiamo toccato spesso questi temi l'abbiamo fatto o continuiamo a fare anche in questo campeggio chiaramente dal nostro punto di vista ma cercando di interloquire con tutti quanti anche gli altri soggetti organizzati con le associazioni sindacati con i partiti e chiaramente anche provando a porci delle progetti noi siamo quegli studenti che mentre il ministro dell'istruzione dell'università della ricerca faceva comunicati stampa su tunnel immaginari erano in piazza e non solo denunciavano esattamente quello che poi si è verificato ma avanzavano anche delle proposte concrete di riforme alternative penso a varie decisioni che abbiamo fatto su sistemi alternativi di diritto allo studio penso a discussioni che abbiamo fatto su modelli alternativi di scuola su modelli alternativi di tassazione universitaria anche qui cercando di riprendere il filo di chi oggi paga perché poi siamo anche nel paradosso in cui per esempio in questi anni la tassazione universitaria negli ultimi 10 anni è raddoppiata e anche qua come dire nel silenzio generale il costo si sposta sempre di più sulle spalle degli studenti così come anche i tagli al welfare in un certo senso negano i servizi quindi spingono chi può a garantirsi autonomamente e in tutto ciò c'è un'assenza collettiva dello Stato questa assenza collettiva dello Stato che però rientra un po' anche nei discorsi che abbiamo fatto sull'Europa cioè da questa discussione ma in realtà anche da molti nostri ragionamenti interni e anche confronti con altre organizzazioni viene fuori un po' un problema centrale che è qual è oggi il ruolo nostro e qual è il ruolo della politica in questo quadro democratico e se questo quadro è realmente democratico e questo come dire da vari punti di vista sicuramente la crisi che stiamo attraversando che ancora non è finita non è appunto una crisi puramente economica ma questo lo sappiamo molto bene è una crisi sociale è una crisi culturale è una crisi che cambia anche la base organizzativa e sociale di un paese è una crisi che ha portato anche a un cambiamento molto repentino nelle forme di lavoro cambiamento che poi da noi ha preso anche come dire derive particolari se vogliamo con tutto quanto quello che riguarda sia il lavoro giovanile ma sia anche proprio la precarizzazione dei giovani tutto questo quadro chiaramente impone anche una riorganizzazione dei corpi che rappresentano la società che si pongono quantomeno questo obiettivo di questo abbiamo discusso anche con con il segretario della CGL ne abbiamo discusso e ne discutiamo spesso al nostro interno anche per porci il problema di come rappresentarlo e ovviamente questa discussione non può che riguardare anche i partiti in una situazione in cui sempre più è difficile rappresentare la realtà e come dire questo in un certo senso emerge anche dalle ultime elezioni il dato sull'assenzione è abbastanza preoccupante e impone di una riflessione non solo ma anche ai partiti rispetto a come oggi ci si pone la rappresentanza e questo tema può non essere paragone anche alle discussioni che facciamo in alcuni casi sull'Europa sui banchi sulla finanza sul debito ovvero oggi noi ci poniamo anche il problema di rappresentare e di avere un mandato democratico ma di che tipo di mandato stiamo parlando banalizzando la discussione si potrebbe dire che a volte una singola agenzia stampa di un'agenzia di rating in cui comunica il declassamento di un dito ha molto più potere anche del voto di un popolo quello che abbiamo visto in Grecia veniva ricordato è emblematico non importa quello che decide democraticamente un popolo seppure in un contesto per carità economico particolare di scelte forse anche pergresse però in tutto questo come dire emerge un po' anche la problematica di cosa può realmente fare in questo caso un partito ma nel nostro caso anche le associazioni che noi rappresentiamo qual è veramente la nostra azione cioè siamo ormai passati a dover rappresentare i studenti i cittadini i lavoratori nell'ambito di un quadro talmente delimitato che di democratico ha più poco e può anche in questo senso come dire lanciarsi poco oltre i sogni pensiamo anche alle discussioni su scuola su scuola università c'è stato detto tutte quante idee belle ma tanto non vi preoccupate che non ci sono i soldi quindi è tutto tempo perso ora al di là del fatto che in realtà i soldi c'erano l'abbiamo visto più volte qual è il tema della democrazia nel momento in cui appunto anche i luoghi democratici come per esempio a livello europeo sono svuotati e in tutto questo non è necessario ripensare volato sicuramente del nostro lavoro penso anche al lavoro che abbiamo fatto nello scorso campeggio estivo anche questo campeggio estivo ma che facciamo tutto l'anno di confronto con le altre associazioni di studenti universitari e mai all'europeo penso però anche alla necessità di riorganizzare un quadro democratico in questo senso a livello europeo e ridare un po' anche alla politica quella dimensione non di utopia o di di un'egogia ma forse di sogno che in alcuni casi dovrebbe ridare e dare un valore e anche un'identità ai partiti su questo qual è l'opinione del segretario? sì tocchiamo qui secondo me la questione delle questioni fatemi aggiungere solo una cosa alle questioni dell'Europa perché siccome poi i paradossi non finiscono mai a noi ci tocca anche un'altra cosa davvero curiosa noi siamo creditori netti verso l'Europa cioè noi diamo più soldi all'Europa di quelli che l'Europa ci dà indietro naturalmente questo è stato in tutti questi anni un titolo di vanto dopo la Germania noi siamo un paese che paga di più ma vi rendete conto dell'assurdo cioè noi oggi finanziamo di più di quello che possiamo fare e una parte del nostro disavanzo che poi si trasforma in deficit città in debito nasce anche dal fatto che diamo all'Europa più di quello che l'Europa dà a noi quello che mi fa girare tutto quello che è girabile è che se voi andate in Germania in Olanda in Finlandia e provate a parlare con un cittadino tedesco finlandese lui è convinto che ci aiutano cioè è convinto che l'Europa forte aiuta l'Italia l'Italia non solo non viene aiutata dai paesi forti ma a sua volta aiuta i paesi deboli quindi abbiamo anche questo paradosso di essere considerati diciamo poco affidabili da questo punto di vista e invece lo siamo addirittura troppo e questo mi fa dire un'altra cosa che so che vi fa piacere anche che è un paese che ha le difficoltà economiche nostre anche qualche spesa va un po' razionalizzata adesso se penso alle spese della difesa in particolare ma non solo qualche attenzione in più bisogna averla perché non possiamo avere una politica di grandeur in un paese che sta declinando così cioè cerchiamo di essere sobri in tutti i capitoli di spesa e non soltanto in qualcuno sì o in qualcuno no perché se no da questo punto di vista c'è qualche cosa che non torna lo dico con tutto rispetto non per fare propaganda ma è evidente che se devi stringere la cinghia la dobbiamo stringere dappertutto con il contrario che dicevo prima nei settori della conoscenza e degli investimenti invece per quanto riguarda la questione democratica qui è il cuore della questione ed è il limite qui sì della costruzione dell'euro qui sì cioè noi abbiamo costruito una moneta senza uno stato questa è la verità inutile cioè io la dico chiara ma questa è la questione e nella storia dell'umanità una cosa così non si è mai vista non c'è abbiamo avuto una moneta che funzionava per più stati dentro un impero quando Roma era Roma la sua moneta valeva dalla Tunisia fino alla Gallia l'impero inglese la sterlina valeva da Londra fino a Bombay ma non si è mai visto una moneta senza uno stato un impero un comodo mai è la prima volta che accade allora quella che sembrava una grande commessa diventa un grande azzardo perché se tu hai una moneta senza uno stato è chiaro che si apre un problema di democrazia e di sovranità che va al cuore delle nostre difficoltà e perché questo? perché la moneta e qui sta anche qui l'errore politico che abbiamo fatto io dico abbiamo poi in senso generoso abbiamo fatto quando abbiamo costruito l'Euro la moneta non è solo un mezzo di pagamento è chiaro che la moneta è un mezzo di pagamento prendo un merce un bene un servizio lo pago strumento no la moneta oltre ad essere uno strumento di pagamento è un potere un potere il potere di battere moneta non a caso nella storia degli stati piccoli o grandi era insieme al potere delle armi l'altro grande potere che gli stati si tenevano battere moneta il potere di creare liquidità e di creare moneta valeva per la Repubblica di Siena valeva per il Commonwealth inglese ma questo potere non è mai stato sottratto agli stati noi abbiamo fatto un capolavoro abbiamo creato una banca centrale che ha questo potere senza che ci sia accanto alla banca centrale uno stato e questo uno stato una politica economica una politica fiscale e questo non solo apre i problemi che abbiamo visto per cui hai una moneta unica hai 10 politiche fiscali 20 politiche del lavoro eccetera ma apre uno straordinario problema democratico perché se a una moneta corrisponde uno stato nella storia dell'umanità e ci sarà un motivo se a quel potere deve corrispondere un altro potere quell'altro potere è il potere del mandato democratico non c'è niente da fare quindi una moneta corrisponde a uno stato e uno stato corrisponde a un mandato democratico se questo link si spezza resta una moneta senza uno stato con 20 stati con 20 mandati democratici statali che non fanno neanche un decimo del potere che uno stato collegato alla moneta dovrebbe avere e qui si apre il problema chi decide per la Grecia chi decide decide il popolo greco con le elezioni decide il Parlamento greco decide il governo greco e se decide la Merkel per la Grecia come funziona perché la Merkel mica è eletta dai cittadini greci è eletta dai cittadini tedeschi giustamente i cittadini tedeschi che eleggono la Merkel la Merkel decide per i cittadini greci gli uni hanno una democrazia gli altri no questo è il cuore del problema che abbiamo e alla lunga perché preoccupa? ovviamente perché quando il tuo potere democratico non conta non c'è bisogno di andare a votare che bisogno hai di democrazia tanto o voti questo o voti quello non hai efficacia del tuo mandato democratico è la fine della democrazia o meglio è la democrazia dei più forti e la non democrazia dei più debole e questa è l'idea di Europa? no si può andare avanti così? no si deve andare avanti sì si può tornare indietro sarebbe meglio andare avanti piuttosto che tornare indietro ma così non possiamo restare nel limbo a metà in equilibrio né avanti né dietro con una moneta senza uno stato senza una democrazia in una crisi cioè in un'Europa che non è solidale per niente questo è il cuore del problema elezioni del 14 elezioni tedesche non a caso stanno tutti a guardare le elezioni tedesche non si è mai visto un intero continente che guarda un risultato elettorale la Germania avrà pure 85 milioni di abitanti ma conta esattamente un sesto degli abitanti dell'Europa però conta il 100% perché perché quella forza economica di sistema oggi è quello che ti decide il baricentro dell'Europa quindi la questione la battaglia l'impegno è questo costruire un'Europa che sia assieme più giusta più solidale e più democratica quindi la questione democrazia è la questione che apre la prospettiva dell'Europa se non ce la facciamo si può anche tornare indietro ma tornando indietro torniamo all'Europa delle piccole patrie 10 15 20 il paese ognuno si tiene la sua sovranità ma anche così dove andiamo dove andiamo però per evitare di tornare indietro devi andare avanti ed è la scommessa vera che sta di fronte a noi io credo spero che abbiamo bisogno tutti di andare avanti perché a questo punto avendo fatto l'euro avendo fatto la mobilità delle persone sentendoci cittadini d'Europa è giusto completarla con gli Stati Uniti d'Europa ma quello deve essere il traguardo non che stai con questa meta così con queste istituzioni così con queste mezze sovranità così dove chi è più forte decide anche per quelli che non possono decidere perché in Europa il cittadino di Atena corrisponde al cittadino di Berlino il cittadino qua di Pesco corrisponde al cittadino di Parigi non è che sono cittadini diversi se abbiamo in mente l'Europa democratica che vogliamo perché se invece sono diversi allora lasciamo perdere lasciamo perdere perché questa Europa non è l'Europa che può assicurare democrazia e cittadinanza a tutti e soprattutto a giovani generazioni anche perché poi in Europa come dire l'unico organo che è direttamente eletto anche dal Parlamento europeo che spesso viene come dire ignorato anche per quanto riguarda le questioni dell'università basta pensare a quanto sta accadendo rispetto al programma Erasmus anche questo figlio dei tagli delgati alla politica di austerità e anche qui una volta ancora si porna parlare non più di borse di studio ma di sostituzione con i prestiti d'onore e tutto quello che si è in grado di fare è eventualmente porre un veto da parte del Parlamento europeo questione molto discutibile riguarda anche le nostre organizzazioni sui modelli europei quindi anche come creare dei partiti europei non lo so dei sindacati degli studenti europei probabilmente anche più forti più radicati e dato chiaro e legibile anche a livello europeo ringrazio ancora della partecipazione il segretario Guglielmo Epifani e a presto con speriamo impegni più non solo impegni sul mondo della scuola e dell'università ma con risultati che possano dare veramente un segnale del cambiamento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti